È tornata vincitrice all'Istituto Seghetti Xenia Palazzo, originaria di Palermo, che nelle recenti Paralimpiadi a Tokyo ha realizzato un risultato di altissimo livello, vincendo un oro nel nuoto, staffetta a 4% e portando a casa altre tre medaglie. Le abbiamo chiesto le sensazioni vissute in Giappone. L'esperienza è stata veramente bellissima, indimenticabile. Sapere che tutti dall'Italia tifavano a noi, tutti gli atleti che gareggiavamo là, è stata un'emozione forte, perché vedevamo il riscontro anche dei giovani che ci seguivano. Xenia torna a parlare agli studenti del liceo sportivo, per sottolineare quanto sia importante l'impegno nei vari campi dove sono coinvolti. Scuola, sport, quello che dico sempre, si può e si deve fare. È un gioco di squadra. Per esempio, io quando andavo a scuola, comunque andavo bene sia a scuola che nello sport, e riuscivo a combaciare impegni scolastici e sportivi. Per i nostri ragazzi credo che sia importantissima. Xenia negli ultimi anni è sempre venuta a trovarci, a raccontare la sua esperienza, perché crediamo che lo sport sia fondamentale per tutti i ragazzi, ma soprattutto anche testimonianze di Paralimpiadi. I risultati che ha ottenuto credo che siano un messaggio veramente forte per questi ragazzi. Il suo coinvolgimento parte dal progetto Slancio senza ostacoli dell'Associazione Il Sorriso di Mavi, nata per fare a memoria di Maria Vittoria, giovane studentessa dell'Istituto Seghetti, scomparsa prematuramente nel 2015. Come ci racconta il padre di Maria Vittoria, i fondi che l'Associazione raccoglie sono destinati a giovani con qualche difficoltà. In questo caso hanno dato un grande aiuto proprio a Xenia. Mi è stata presentata questo progetto, questa ragazza, che aveva bisogno di cure e di tutta una serie di cose. Quindi io l'ho appoggiata come l'Associazione Il Sorriso di Mavi e abbiamo cominciato a sostenere tutta una serie di spese, di cure che richiedeva la ragazza. È una soddisfazione vedere ora che la solidarietà e l'impegno di Xenia siano arrivati fino al vertice conquistando medaglie olimpiche. È un'esperienza di un atleta parolimpica che ha da insegnarci tanto per l'inclusività. Ecco, non sono più i poverini che nuotano, ma sono ragazzi anche questi che hanno fatto, lavorano duramente durante il giorno e questi sono i risultati che a Tokyo hanno saputo portare e hanno saputo dare all'Italia l'onore e anche il significato delle loro medaglie.